Auguri di Buon Natale a tutte le donne e gli uomini dell'amministrazione comunale di Napoli e di tutte le nostre società partecipate. Auguri di un sereno Natale anche in famiglia e soprattutto di un ottimo 2019. Quest'anno che si sta chiudendo alle nostre spalle è stato come sapete un anno duro, difficile, in cui ancora una volta è stata messa a dura prova la tenuta del nostro ente, anche con insidie istituzionali gravi, con ostacoli reiterati, colpi bassi, disattenzioni di chi dovrebbe istituzionalmente dare sostegno alla vita della città. Però ancora una volta abbiamo ottenuto risultati straordinari grazie al lavoro della nostra squadra, dell'amministrazione comunale di Napoli, di cui ho l'onore e l'onere di essere il capo, la guida per volontà popolare e anche quest'anno ho potuto apprezzare la dedizione, l'abnegazione, la professionalità e l'amore di tante donne e tanti uomini del Comune di Napoli, delle sue municipalità, di Palazzo San Giacomo ovviamente e delle società partecipate. Quindi ci tenevo non potendo stringere la mano a tutte voi e a tutti voi attraverso un video di farvi gli auguri e che sappiate che tra mille difficoltà noi riusciremo a superare e a rimuovere tutti gli ostacoli affinché la nostra amministrazione possa essere sempre di più un punto di riferimento per tutti i napoletani e per i sempre maggiori turisti che affollano la nostra città. Quindi davvero con il cuore vi faccio gli auguri di Buon Natale e di un ottimo e straordinario 2019 ancora una volta uniti tutti e tutti insieme a me nell'interesse di Napoli e del popolo napoletano.